una cosa che vi faccio vedere è forse il capo più particolare di quelli che ho scelto di quelli che mi sono stati inviati parliamo di questo abito ok allora so la vostra reazione mi direte che cos'è la donzelletta vien dalla campagna più o meno sì nel senso che è molto molto vedete molto vintage lo stile ragazze io vi voglio far notare le rifiniture di questo vestito fino a quassù fino al colletto è tutto estremamente rifinito bene questa è la manica vedete super rifinita bene c'è veramente bellissimo allora è molto particolare me ne rendo conto però me è piaciuto tanto di nuovo quando me lo sono messe mi sono sentita proprio una signorina degli altri tempi molto molto carina si abbina anche in una chiave un po più moderna ve lo farò vedere però comunque la rifinitura dell'abito è pazzesca il colore molto particolare perché vedete questo questo bordino qui è una specie di grigio barra verde in generale molto carina anche la fantasia vedete appunto la fantasia è molto campagnola no molto molto romantica l'abito è midi e niente con i miei mi è piaciuto tanto e quindi ve lo consiglio perché è molto molto sfizioso molto carino ovviamente vi deve piacere questo stile ovviamente poi lo dovete mettere mi è piaciuto tanto e fatemi sapere cosa ne pensate sicuramente dividerà un po i pareri perché giustamente è un vestito un po particolare però fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate anche voi attenzione e 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 Grazie a tutti